Musica Musica Torniamo in diretta dalla piazza del campo dove i suoi primori stanno scoprendo dieci contrate che prenderanno ma anche le sette che correranno il prossimo anno da correre Sono già sette tutte le contrate e si sta appuntando sui primi Dov'è vedere le contrate? Che cosa ne ho dito? Trata che è fatica ogni contrate è composta da un cammino due archieri due mani con un spazio insieme maggiori e poi per quelli di fuori non c'è il numero